Più di 3.000 iscritti. L'ottava edizione della Gran Fondo Squally Track batte ogni record con migliaia di ciclisti ad affrontare la tre giorni di percorsi da Cattolica a Gabicce Mare in una ottava edizione che ha incluso anche Tavuglia nel tracciato. Un successo quello dell'evento ideato otto anni fa da Velo Club Cattolica e Ciclo Team 2001 di Gabicce Mare che ha superato anche il meteo inclemente. È una soddisfazione aver fatto partire 1.300 persone sulle 2.000 passa ma sono degli eroi veramente ed è bellissimo vedere comunque il clima che nonostante le condizioni meteo che quest'anno purtroppo è andata così l'unica edizione che è sotto la pioggia di queste otto ma siamo soddisfatti perché è andato tutto bene, è filato tutto liscio adesso a festa finale qua sotto la copertura perché naturalmente era necessaria e massima soddisfazione. Saremo ancora più bravi l'anno prossimo, faremo ancora più numeri, la manifestazione sta crescendo enormemente dal primo anno erano 1.000, sono diventati 3.000 e avanti tutta. L'ottava edizione, anche questa mattina nonostante queste condizioni meteo, 1.500 persone sono partite, i ciclisti sono partiti dall'acquario, dalle navi per fare questo percorso bello per la prima volta credo sotto la pioggia però insomma abbiamo visto veramente ancora l'entusiasmo. Ormai è una manifestazione consolidatissima, quindi la Gran Fondo degli Squali ormai tra le prime dieci in Italia è cresciuta tantissimo, quest'anno numero record, più di 3.000 iscritti, oggi il tempo non ci aiuta però noi siamo qua ad aspettarli con i sardoncini, la piada e con tutta l'accoglienza che possiamo dare. Il tempo non è stato clemente però andiamo avanti lo stesso.